Secondo la leggenda il Minotauro è un mostro mezzo uomo e mezzo toro, nato dall'unione della regina Pasifae di Creta e di un toro. Il Minotauro, non essendo accettato alla nascita del re di Creta Minosse, viene rinchiuso in un labirinto disegnato per lui dall'inventore Dedalo. Il problema è che essendo un mostro ha la necessità di essere soddisfatto per non farlo arrabbiare. Così Minosse decide di chiedere ad Atena, in cambio della vita del suo figlio legittimo, ucciso dagli Atenesi per futili motivi, un pegnio di giovani donne e uomini. Così nasce la leggenda così come la conosciamo in arte, il simbolo del Minotauro come la bestia violenta che divora gli innocenti, però anche l'incarnazione della passione e dell'istinto contro la razionalità. Due sono le rappresentazioni più famose nella storia dell'arte di questo animale, le incisioni del 1961 di Gustave Doré della Divina Commedia e, ancora più belle secondo me, le rappresentazioni di Picasso che ha fatto di questo tema uno dei temi centrali delle sue opere, dei capolavori da vero.